Nel cuore di questa coinvolgente narrazione si è dipanata una scena carica di tensione. Catalina ha aperto il suo cuore e ha parlato con Manuel in modo chiaro e schietto, rivelando un segreto oscuro che ha gettato un'ombra inquietante sulla storia. La persona responsabile del tragico evento che ha portato Gianna a tornare alla promessa, distrutta, maltrattata e gravemente ferita, è Jimena. La confessione di Jimena ha scosso le fondamenta della verità, e ha sollevato una serie di interrogativi sconcertanti. Tu rimanete con noi, ed iscrivetevi al canale per scoprire le emozioni e le incertezze di questa attravolgente narrazione. Il domani si prospetta avvolto nell'incertezza, e le conseguenze di questa rivelazione peseranno come un fardello su tutti i personaggi coinvolti. La moglie di Manuel ha ordinato il maltrattamento di Anna, come atto di vendetta, per il suo coinvolgimento nella riparazione dell'aereo, gettando ulteriori ombre sulla situazione. Se Manuel è già in preda all'ira, il domani potrebbe portare ulteriori conflitti, rendendo inevitabile un confronto che potrebbe cambiare tutto. A proposito di Catalina, nonostante i suoi dubbi e le sue paure, Manuel è molto arrabbiato, decide di non viaggiare con sua moglie e richiede di avere spiegazioni più dettagliate riguardo all'incidente di Anna. L'aria è carica di tensione, mentre i due cercano di affrontare la verità che sta emergendo. Nel frattempo, Mauro, preoccupato per la turbolenta lite tra Simona e Candela, si rivolge a Martina in cerca di notizie su Leonor. La conversazione si trasforma in un racconto appassionato, e Martina elabora un piano, per riconciliare i due amici. Decide di chiudere Simona e Candela, nell'ufficio della governante, sperando che possano chiarire le loro divergenze, e ripristinare l'amicizia che sembra ormai compromessa. Tuttavia, la situazione tra Simona e Candela, è incontrollabile, e un nuovo litigio scoppia, coinvolgendo persino Cruz. La tensione raggiunge livelli insostenibili, costringendo Gregorio a prendere una decisione drastica. Anna deve essere allontanata. Le lacrime e la sofferenza si fanno sentire nell'aria, mentre la casa è sommersa da un silenzio che pesa come un macigno. Il lavoro deve proseguire senza indugi, ma nel cuore della dimora, una figura luminosa spicca per la sua compassione. Pia, la governante, non può restare indifferente, di fronte alla sofferenza di Anna, gravemente ferita ed esausta. Il suo cuore si riempie di empatia e solidarietà mentre vede Anna in quella condizione. Questa situazione, porta a una discussione appassionata con Pia. È evidente che occorre un piano per proteggere Anna. E Pia, con il suo amore per la famiglia e per il lavoro, è pronta a fare tutto il possibile. Ma non è sola. Anche i colleghi, Teresa e Maria Fernandez, sono pronti a unirsi a questa nobile causa. Nel frattempo, la tensione tra la baronessa e Alonso è alle stelle. La proposta di scambiare uno dei suoi palazzi con una parte dell'eredità viene respinta con disprezzo dalla baronessa, che suggerisce invece che sarebbe stato un peccato. Non poter godere di quei soldi insieme. La situazione è surriscaldata, e le future tensioni si profilano all'orizzonte. Il domani porta con sé un carico di aspettative, incognite e decisioni difficili che i nostri eroi dovranno affrontare. Chi sarà in grado di placare questa fiamma di vendetta, che divampa tra i personaggi? Quali saranno le conseguenze di questo rivelatore svelamento che ha sconvolto l'equilibrio della storia? Rimanete con noi iscrivendovi al canale, mentre questa affascinante storia continua a svilupparsi, a rivelare i suoi intricati segreti, e a esplorare le emozioni profonde dei protagonisti. Commentate se è giusto che Manuel difenda Ana.